Musica Ben ritrovati in questa seconda parte di Angoli Oggi è venerdì e come spesso accade di venerdì Sono in compagnia di Mauro della Porta Rappo Buonasera Buonasera a tutti, a lei e a tutti Allora Mauro, avevamo affrontato L'ultima volta che ci siamo visti Abbiamo affrontato ancora una volta Il tema del cinema statunitense Questa volta lo riapriamo però Andando un po' indietro nel tempo Con una chiave di lettura particolare Quella della censura Sì, perché per quanto gli Stati Uniti Siano evidentemente da sempre considerati La patria della democrazia Una democrazia compiuta effettivamente E quindi si possa pensare che di censura Nel campo dello spettacolo negli Stati Uniti Non si sia mai sentito parlare In realtà così non è Ma per una situazione del tutto particolare Intanto vorrei dire che siccome si parla di censura cinematografica Parliamo in questo caso di censura cinematografica C'è da dire che il primo caso in assoluto A prescindere degli Stati Uniti Di censura cinematografica Si è avuto addirittura nel 1898 Il cinema era stato inventato da tre anni Agli origini Praticamente nel 1895 i fratelli Lumière Proiettano il primo filmato E tre anni dopo c'è in Inghilterra Un documentario dedicato al formaggio Stilton E fanno vedere le muffe del formaggio In questo documentario E la Stilton interviene E ottiene Una prima opera di censura Che questo documentario venga ritirato Quindi quando ancora era muto tra l'altro Assolutamente Ma è tutto a me neanche Ma altro che muto Eravamo proprio agli inizi Assolutamente Quindi c'è già da subito Un intervento da parte di qualcuno Che cerca di fare in modo che le cose non vengano viste Come sono in effetti in realtà Ecco Poi dopo che dire C'è un periodo nel quale Insieme al cinema cosiddetto Normale Fra virgolette Nasce già Un cinema pornografico Ecco Di quello però adesso noi non ci occupiamo Perché stiamo parlando invece Della censura che riguarda il cinema D'evasione Quello normale diciamo Che tutti siamo abituati ad andare a vedere In America Negli anni 20 Fino proprio al 1930 31-32 Era invalsa L'abitudine di far vedere al cinema Soprattutto per quanto riguarda i gangster Che all'epoca erano molto importanti negli Stati Uniti Si affermavano le varie bande di gangster A Chicago Piuttosto che nel Kansas Eccetera Si facevano vedere le imprese di questi signori Che molto spesso portavano a risultati positivi Cioè alla fine Quindi venivano dipinti quasi come degli eroi Eh degli eroi Venivano rappresentati come degli eroi C'era il periodo in cui c'era Dillinger Un famoso bandito Anche quello era diventato un eroe Insomma c'era una situazione che da questo punto di vista Non poteva essere rappresentata Non si poteva continuare a rappresentarla in questo modo Perché venivano esaltati questi personaggi Allo stesso tempo da un punto di vista Diciamo dell'erotismo visto sullo schermo Si stava leggermente esagerando Allora non è intervenuto lo Stato Come si potrebbe pensare Uno può pensare Lo Stato legifera in merito E dice che da questo momento in poi Non si potranno fare determinate cose No Sono state le grandi compagnie di produzione cinematografica Quelle di Hollywood praticamente Ad auto Si sono riunite E hanno deciso di creare E di mettere in funzione Un codice di comportamento Che era praticamente una censura Da quel momento in poi Che poi ha il nome di uno di questi produttori Esattamente Chiamarono l'ex direttore dell'ufficio postale degli Stati Uniti Sotto il presidente Harding Che si chiamava Hayes E crearono un codice Che è chiamato appunto codice Hayes Perché fu lui poi dopo a stenderlo Dopodiché fu approvato da tutti quanti E questo codice Hayes Detava delle regole ben precise Non so per esempio Farei un richiamo a Liala Per quanto riguarda Liala aveva sempre detto Liala fra l'altro unisce Varese e Como Perché è nata vicino a Como A Carate Ed è morta a Varese Quindi io sono di Varese Sono qui a Como È una specie di tradunion Dicevo Per quanto riguarda i suoi libri Diceva Io accompagno i miei protagonisti Fino alla porta della camera da letto Ma non la varco Ecco Una delle regole del codice Hayes Fu appunto quella Che non si poteva più far vedere Qualcosa di troppo esplicito Per quanto riguarda i rapporti sessuali Lo si poteva far intuire Intuire Perché a un certo momento C'era il bacio E poi dopo c'era una risolvenza Non si vedeva più nulla Insomma uno poteva capire Immaginava naturalmente Però non si doveva far vedere E nello stesso tempo Non si poteva far vedere Che il malaffare Il comportamento scorretto Portasse dei vantaggi Doveva sempre finire tutto negativamente Ecco io A questo riguardo Ci sono moltissimi film Di cui possiamo parlare Direi che forse uno Che ci fa capire qual era il sistema È Rapina a mano armata Che è un film di Stanley Kubrick Eccezionale Con un grandissimo attore dell'epoca Degli anni 50 Che si chiamava Sterling Hayden Che era protagonista spesso Di film di gangster In quel periodo Ma di film di gangster In cui il gangster Alla fine non aveva nessun vantaggio Non ricavava nessun vantaggio Stiamo vedendo intanto qualche foto Qualche immagine Qualche immagine Ecco qui Sterling Hayden Alla fine Non c'era un ricavato Qui Il racconto è straordinario Perché In Rapina a mano armata C'è una situazione Per la quale fanno un colpo bellissimo Alla fine Lui ha in mano Una valigia Piena di dollari Ma mentre se ne sta andando via Ecco la stiamo vedendo Ecco adesso forse La scena finale In cui sembra che sia fatta Esatto Sembra che sia fatta Ma in realtà Poi la valigia si apre E i soldi volano via Nel vento Perché non ci può essere Un finale favorevole Al cattivo Tra virgolette Per quanto qui Poi in effetti Sia un cattivo Ma rappresentato Da un certo punto di vista In una maniera Direi molto brillante Molto interessante Anche se poi In questo finale Almeno in questo stralcio Che abbiamo trovato La scena finale È proprio di lui Che viene beccato Seguito fino all'ultimo E poi però Appare proprio la scritta Ora magari Lo vediamo fra poco Sì Ecco attenzione Qui stiamo vedendo Sono proprio gli ultimi istanti Di questo film Che fanno capire Quello che dicevamo poco fa Non può finire bene Qui viene sostanzialmente Beccato Sì certo Alla fine lo prendono Cioè come Praticamente questo è il discorso Il codice ACE Dettava delle regole Ben precise Su quello che Dove avrebbe dovuto Succedere sullo schermo Quindi va avanti Per parecchio tempo Perché qui sì Siamo al momento Finale Ecco questo è proprio Il momento finale Conclusivo Lo vanno a prendere Si vede che lo vanno a prendere Lo vanno a prendere Qui non si è vista la scena In cui la valigia si apre E volano via i soldi Perché lui già Qui aveva già perso tutto E in più viene anche arrestato Quindi è proprio Peggio di così Non gli poteva andare Ma comunque dicevo In parole povere Il codice ACE Rimane in vigore Per un notevole numero di anni Dai primi anni 30 Fino agli anni Teoricamente agli anni 60 In realtà C'è un momento In cui Un produttore cinematografico Che si chiama Howard Hughes Che era uno dei nomi I più ricchi degli Stati Uniti Che era produttore cinematografico Ma si improvvisava Ogni tanto anche regista E quella qui Era ispirato il film Di Aviator Se non sbaglio Beh sì C'è un grandissimo personaggio Nella storia degli Stati Uniti Non solo a lui Sono ispirati altri film del passato L'uomo che non sapeva amare Romanzi di Harold Robbins Cioè è un personaggio Di grandissimo livello Per cui a lui Si sono ispirati moltissimi Scrittori E cinematografari Ma dicevo Howard Hughes A un certo momento Decide di fare un film Come regista e produttore Che è Il mio corpo ti scalderà E in questo film Siccome è la sua fidanzata Nel momento Che era Jane Russell Sì abbiamo la locandina Una punizione conseguente Non è che vigila Non è che venisse In America In America è anche molto prima Del 68 Perché i movimenti hippie I movimenti della contestazione Partono già dai primi anni 60 C'è tutto quello che è conseguente Al kennedismo Kennedy John Kennedy E così via C'è la guerra del Vietnam Che è qualcosa di dirompente Di lacerante Tutto questo fa sì Che ci siano dei cambiamenti radicali Proprio Assolutamente radicali Si va sulla luna Non c'entra niente Ma mettiamo anche questo dentro Nel calderone Sì diciamo Quindi gli anni 60 Sono gli anni in cui cambiano le cose E all'inizio degli anni 70 Abbiamo veramente Un romano dal codice S È assolutamente sorpassato E stranamente Mi viene in mente adesso parlando È nello stesso momento In cui all'improvviso I pelli rosse Che nei film western Hanno sempre stati rappresentati Come dei nemici Dei cattivi da combattere Improvvisamente invece Diventano qualcosa di diverso Vengono Cominciano ad essere Rappresentati come Dei perseguitati Come in effetti era stato Come poi è stato E' un'altra parte I bianchi Volevano Conquistavano le terre Che erano dei pelli rosse Quindi c'era un movimento Una guerra continua Nei confronti dei pelli rosse Per portargli via I loro territori Con tradimenti Nei confronti dei trattati Che non venivano firmati E mai rispettati dai bianchi E così via Ma fino a quel momento Per esempio Nei film di John Ford Il film Il più grande autore Di western Fino a quel momento Gli indiani venivano rappresentati Sempre come dei cattivi Tra virgolette Non so per esempio Se vedete Ombre rosse C'è tutta la corsa Della diligenza Inseguita dagli indiani Dai pelli rosse Che sembra che vogliono Semplicemente Ammazzare loro Senza nessuna ragione Per il gusto di farlo Naturalmente non era così Però vengono rappresentati In quel modo Poi invece All'inizio degli anni 70 Nel momento in cui Appunto il codice Non vale più Probabilmente ha un influsso Anche su questo Il fatto che non valga più Nascono film come Soldato blu O un uomo chiamato cavallo Dove improvvisamente Gli indiani diventano Qualcosa di diverso I pelli rosse Vengono rappresentati In una maniera diversa E si comincia A schierarsi Dalla loro parte La situazione oggi? Ma la situazione oggi? Per concludere? Ma direi che È cambiato parecchio Non c'è più Questo La ragione Del codice ACE Attualmente non esiste Non ci sono più Queste necessità Ma al di là Del codice ACE Se c'è comunque Una sorta di autodisciplina Sempre delle case Io ritengo che A questo punto Ormai sono No Praticamente ognuno Fa quello che gli pare Ma da parecchio tempo A questa parte Abbiamo visto film Naturalmente Stiamo parlando sempre Dei film che sono In qualche modo Considerati per tutti Che poi in effetti Magari non lo sono Perché vengono vietati I minori di 16 anni O quello che è Però insomma Da parecchio tempo Le cose sono cambiate Non c'è più Quella situazione Di cui si è parlato Siamo abbastanza Vediamo un po' tutto Vediamo Soprattutto poi Con l'avvento anche Dei DVD Nei contenuti speciali Non inserite anche scene Che poi Vorrei chiedere Poi anche dire Un'ultima cosa Che riguarda questo Quando ero ragazzo io Si andava In Svizzera A Mendrisio Dove c'era un cinema Che faceva vedere I film a luci rosse Gente che veniva Apposta a Varese O a Como Per poter andare A Mendrisio In questo cinema Adesso Vedendo quello Che si vede Nei film normali In molte occasioni Quando ci sono scene D'amore soprattutto Sono molto più avanti Dei film a luci rosse Quello che una volta Era un film a luci rosse Adesso è un film Per educande direi Beh Quindi Che è tutto dire Insomma È vero Assolutamente Ringraziamo Mauro Della Porta Raffo Per essere stato con noi Anche questo venerdì Averci Grazie a voi Per questa lezione Di storia del cinema Noi anche per oggi Abbiamo finito Adesso diamo la linea Come sempre al telegiornale Ci ritroviamo sempre qui Lunedì Per una nuova puntata Di Angoli Buon weekend Buonasera Grazie a tutti Buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti.